Un 28enne è stato arrestato e posto ai domiciliari a Isca sullo Ionio dai carabinieri della compagna di Soverato con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri nell'ambito dei servizi mirati alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti hanno notato dei movimenti sospetti da un'abitazione ubicata nella zona della Marina del Paese e proprio l'arrestato alla vista dei militari ha manifestato un evidente stato di agitazione. Scattata la perquisizione, oltre ai 345 grammi di marijuana nascotta sotto alcuni capi d'abbigliamento, hanno trovato 21 semi di canapa, un bilancino in materiale vario utilizzato per il commissionamento delle dosi. Chiaramente tutto il materiale è stato sequestrato. Il 3 marzo scorso i carabinieri della sessione operativa del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Petilia Policastro hanno sottoposto a controllo BG e BR, fratelli di 57 e 53 anni, nativi di Mesoraca, pensionati, i quali all'interno della loro abitazione ubicata in frazione foresta di Petilia Policastro sono stati trovati in possesso di 150 grammi di marijuana divisi in due involucri di un bilancino di precisione e di diverso materiale idoneo al confessionamento della sostanza. Nel corso della perquisizione i militari hanno anche rinvenuto una pistola marca Browning calibro 6.35, risultata apparentemente da un soggetto deceduto nel 1992 a Courmayeur e mai denunciata quale provvento di furto, nonché 50 cartucce di calibri vari. Al termine degli accertamenti e dell'esplettamento dell'attività, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Persone non identificate si sono introdotte nei locali dell'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica della struttura sanitaria di Pizzo, attualmente trasformata e utilizzata per emergenza Covid, forzando la porta del reparto posto al secondo piano dell'edificio e rubando un computer portatile e due telefonini. I ladri, da quello che si è potuto apprendere, hanno avuto facile accesso, poiché l'ingresso di quello che doveva essere un ospedale mai realmente entrato in funzione resta completamente aperto. Si era allontanato dalla residenza sanitaria protetta dove era ospite, facendo perdere le proprie tracce e quasi tre giorni dalla scomparsa è stato trovato il corpo senza vita di un 87enne di cui non si aveva la notizia dal pomeriggio di venerdì scorso a Saccosbo albanese in provincia di Cosenza. Il cadavere dell'anziano, che era finito in un canalone non molto lontano dalla struttura dove era ospite, è stato individuato da un elicottero dei Vigili del Fuoco che stava perlustrando la zona dove si erano concentrate le ricerche. Una nuova targa provvisoria dedicata all'operaio socialista 36enne di Catanzaro, Giuseppe Malacaria, ucciso nel 71 da una bomba fatta esplodere durante una manifestazione antifascista, è stata ricollocata dopo che i gnoti vandali della notte tra venerdì e sabato avevano diverto e distrutto, quella collocata in Piazzetta della Libertà il 4 febbraio del 2007. La ricollocazione della targa provvisoria, in attesa che venga riposizionata quella originaria dopo che ne saranno ricomposti i frammenti, è stata promossa dallo stesso comitato che a suo tempo volle ricordare la memoria.